E' stata una serata straordinaria quella andata in scena sulla piana di Elce nel comune di Cortino. Il piano solo della Nannini ha emozionato il numeroso pubblico presente, ripercorrendo la storia musicale della rocker toscana in una location mai vista prima. Uno scorcio d'Abruzzo che ha colpito positivamente gli stessi organizzatori e gli amministratori dei comuni della rete Abruzzo dal vivo. Fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente, amami ancora. Fallo! Fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente, amami ancora. La gioia del popolo, del territorio, addirittura ho visto degli uccellini battere le ali, quindi abbiamo fatto centro. Quando le cose si vogliono, nel rispetto delle regole e dell'ambiente si possono fare. E' Naudi, Giannini, sono carte vincendi per il territorio che sta alzando la china. Una location quasi inaspettata anche per voi, organizzatori e amministratori, perché l'avete appunto dovuta cercare in pochissimi giorni e si è fatto centro ancora una volta. Certo, lo scenario ideale era l'UNESCO, il nostro gran sasso, adesso averlo alle spalle forse era qualcosa di ancora più bello, ma va bene così. Il bello è sentire la gente che si diverte nel rispetto dell'ambiente, con un'arena che è quella del nostro bellissimo teatro ambientale. Ieri dalla mia schiena hai soffiato via...